Ciao, io da oggi ti chiamo Zia Ketty, posso o mi picchi? Come fanno tutte e tutti, Zia Ketty. Zia Ketty perché? Perché i tuoi nipoti ti hanno chiesto dei consigli, dei consigli anche molto pratici che tu hai dato per evitare violenza online. Non solo i miei nipoti ma anche i loro amici, da qui è nato questo libro che si chiama non è normale e racconta come proteggersi dalla violenza, anche quella online. Per esempio, una delle cose che viene fatta con maggiore frequenza tra i ragazzi e le ragazze è quello di scambiarsi immagini e poi queste immagini che fine fanno? Magari sono immagini anche sessualmente esplicite o del cosiddetto sexting. Io ricordo ai ragazzi e alle ragazze, usate i messaggi effimeri, ricordatevi di non essere riconoscibili nel volto se lo fate perché effettivamente quelle immagini potrebbero essere cedute da altre persone. E poi ricordo anche un'altra cosa che se siete vittima di quello che si chiama revenge porn o se finite in uno di questi gruppi telegram in cui avviene di tutto, anche degli stupri, degli abusi sessuali per immagini, potete rivolgervi anche se non potete farlo ai vostri genitori perché magari vi vergognate, c'è una procedura che si può scaricare sul sito del garante della privacy oppure potete rivolgervi a un'associazione che si chiama Permesso Negato e anonimamente vi aiuterà anche se siete minorenni. Questo è molto importante, Permesso Negato ragazzi ricordatevelo. Un'altra cosa di cui hai parlato nel libro e anche oggi al Festival Francescano, la gelosia, la gelosia è cambiata, la gelosia sembra un valore per alcuni ragazzi oggi. Oggi la chiamiamo romanticizzazione della gelosia, in realtà la gelosia è sempre la stessa, la differenza è che questa romanticizzazione, cioè che sia un elemento naturale all'interno delle relazioni, viene veicolato attraverso programmi televisivi, attraverso i social, TikTok, è sempre stato un po' così, abbiamo sempre pensato, vabbè geloso ma perché no ci tiene a me. Oggi però si può mostrare questa gelosia in mille forme diverse, la challenge su TikTok in cui le ragazzine fanno vedere che il loro fidanzatino gli impedisce di vestirsi in quel modo, gli impedisce di andare in discoteca, lui sì, lei no. Ecco, quello che è cambiato è che ci sono mille strumenti per raccontare questa gelosia che in realtà non è gelosia, è violenza. Grazie Katie per tutto quello che hai raccontato davanti a una platea piena di giovani e anche noi ci rivolgiamo a loro, continuate a seguirci in piazza oppure sui social. Grazie al Festival Francescano. Grazie a te Katie. Grazie a te.